Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Cards to your friends and family this holiday season. Quanto è bella questa canzone, quanto sono forti loro, i Radiohead, e quanto è bello questo disco, mamma mia. Sì, è stato cantato bene dal punto di vista emotivo, bello lato tune che ha condensato il tutto, dando una grande aggiunta al brano. È esattamente quello che io voglio sentire, non manco volevo, quello che io voglio sentire, questa tipologia di canzoni. L'artista è quello giusto. Devo dire che ho sentito tutta la difficoltà nell'interpretare una canzone che ha una lingua diversa, mentre per qualcuno è una zona di comfort, per altri è una zona un po' di difficoltà. L'ho visto nelle strofe un po' in difficoltà a trovare proprio l'intonazione, incastrarla con la parola, e questo mi ha un po' distratto, cosa che non è accaduta nel ritornello invece, che è andato liscio come l'olio. E quindi devo dire che l'ho visto un po' in difficoltà durante la performance, ma era talmente ben allineato con il brano che comunque l'ha reso piacevolissimo, interessante, e che arriva, emotivamente arriva, e questo conta con brani di questo tipo. Non è stata l'esibizione perfetta e anzi le sue carenze vocali qui si sono viste tutte, cioè il fatto che non abbia una voce con una scala enorme, questo si è visto. E voi sapete che a me fa schifo chi canta bene, per carità. Però c'era una grande attenzione da parte sua nell'essere corretto, sia appunto nell'addizione del brano che sia proprio nell'intonazione, e questo me l'ha fatto percepire un po' incastrato, e ripeto, poi quando invece è arrivato il rilascio del ritornello e anche un po' la seconda parte del brano, si è liberato e onestamente arriva. Quindi io dico che non è stata un'esibizione che me lo ha fatto valorizzare appieno dall'inizio alla fine, ma che non ha tolto nulla a lui, perché comunque poi quando doveva arrivare è arrivato come uno schiaffo in faccia, con una canzone bellissima, di cui tutti siamo fan, diciamoci la verità. Quindi la reputo per Mood una scelta azzeccata, ma comunque una scelta complessa, una montagna da scalare, ha detto Ambra, credo intendesse questo, e non è tanto che l'ha scalata al meglio, ma tanto che l'ha scalata nonostante le difficoltà, e questo mi ha portato ad apprezzare questa performance.